Sindaco Alessandrini non si dimette, le opposizioni chiedono la sua testa, però lei è deciso più che mai di andare avanti. Certamente le mie dimissioni non sono in alcun modo all'ordine del giorno. Il senso di questa conferenza stampa è quella di chiarire i fatti che in barba al segreto istruttorio sono precipitati sull'opinione pubblica e chiarirgli nel senso che l'attività a cui il sottoscritto si è sempre conformata è stata quella di massima attenzione alla salute pubblica, la cui tutela non è mai venuta meno. Poi qui ci sono aspetti formali su cui si discute nel palazzo di Vialofeudo. Questi aspetti formali noi siamo assolutamente tranquilli in ordine al fatto che non abbiano riflessi penali perché la salute pubblica, ripeto, mai è stata messa in discussione. Il tema è quello di due ordinanze, di due ordinanze non pubblicate, di due ordinanze veridiche nel contenuto e non offensive della salute pubblica. Ecco, su questo io credo proprio che non vi siano in alcun modo i presupposti per ipotesi di dimissione e andiamo avanti tranquillamente in questo mestiere tanto impegnativo quanto bello. Lasciando alla magistratura le questioni giudiziarie c'è però il problema politico. Qualcuno parla anche di freddezza del Partito Democratico nei confronti del sindaco Alessandrini. È così o sono solo indiscrezioni giornalistiche? Ma io devo dire che in queste ore, sin dalla giornata di ieri, ho ricevuto molte attestazioni di stima e di solidarietà provenienti non solo dalla mia comunità politica ma da una comunità cittadina più vasta per cui francamente non mi sembra un problema questo.